Ho 60 anni. Sono ancora giovane, sì. Beh, c'è chi si sente giovane perché nella vita non ha ancora fatto niente e chi perché ha combinato di tutto ma se l'è dimenticato. È il caso mio. Dicono che il buongiorno si vede dal mattino. La prima domanda che mi faccio appena mi sveglio è dove non ho male oggi? E tra un doloretto e l'altro inizia la giornata. Medicine e colazione. Passeggiatina per far arrivare l'ora di pranzo rigorosamente alla mezza e pastiglie con contorno di insalata. Riposino e si aspetta l'ora di cena. Altre pillole con una buona minestrina. Davanti alla tv si dorme beatamente e quando si va a letto si sta svegli. Ma non è un problema. Pastiglietta e vai col sonno. La nostra è l'età che arricchisce le case farmaceutiche. O scusate devo andare. Ma dal medico naturalmente.